Nell'ultimo periodo stiamo di nuovo parlando tantissimo di visori soprattutto grazie all'arrivo dell'Apple Vision Pro e ovviamente inizia a sorgere qualche domanda ma come si stanno comportando gli altri visori tipo MetaQuest 3 che ormai hanno alle spalle già 4 mesi di servizio effettivamente sono dispositivi utili come si stanno comportando in questi giorni Poderac tu che li utilizzi in maniera costante quasi ogni giorno ecco perché ho voluto fare questa recensione a distanza di mesi perché effettivamente dopo mesi riesci a focalizzare bene il dispositivo e a condividere esperienze che possono aiutare altri che sono interessati a questa categoria di prodotto cercherò di raccontarvi cosa c'è all'interno della confezione le differenze ad esempio anche con MetaQuest 2 infatti questo non è il mio primo visore ho diversi anni di esperienza in questa categoria io ho iniziato con il MetaQuest 2 che mi ha regalato un sacco di esperienze e adesso con MetaQuest 3 devo dire l'esperienza è davvero cambiata quasi completamente perché? perché dentro la confezione cosa troviamo? troviamo il nostro visore accompagnato da controller già con le batterie integrate i controller attenzione voglio subito evidenziare che sono opzionali in questo MetaQuest 3 in che senso? sono incluse nella confezione ma vi servono a ben poco a meno che dobbiate ovviamente giocare infatti grazie alla tecnologia pass-through come c'è ad esempio su Apple Vision Pro tu puoi utilizzare le tue mani direttamente l'hand tracking per muoverti all'interno delle applicazioni di intrattenimento io soprattutto con il MetaQuest 3 utilizzo applicazioni di intrattenimento tipo YouTube tipo Prime Video tutte quelle applicazioni che hanno contenuti multimediali e io veramente utilizzo pochissimi controller se non in determinate circostanze come il gaming questa è una novità importante perché era presente anche con il MetaQuest 2 ma con la visione a colori di MetaQuest 3 e soprattutto con il nuovo processore con tutto il nuovo ecosistema che ha creato Meta effettivamente tu i controller li vai a dimenticare a livello di novità notiamo subito che il design è stato cambiato rispetto a MetaQuest 2 infatti abbiamo nuove telecamere che ci permettono come vi ho detto la visione a colori qui centralmente abbiamo anche un sensore di profondità altre telecamere nella parte inferiore un peso che è leggermente superiore rispetto a MetaQuest 2 ma più compatto quindi è un peso più bilanciato e alla testa pesa decisamente meno c'è un nuovo strap con un laccino centrale che effettivamente è più comodo rispetto al MetaQuest 2 ma alla fin dei conti tu sempre preferisci prendere quelli di terze parti perché hanno soprattutto un'imbottatura migliore e puoi regolare per esempio la pressione dietro la testa e evitare che il peso si senta infatti io con questo tipo di strap di terze parti che vi ho portato già in una recensione mi trovo molto bene e riesco volendo a fare anche 2-3 ore senza percepire un peso particolare sul mio volto di questo visore anche i controller hanno subito un aggiornamento non solo hanno rimosso l'archetto hanno anche ottimizzato l'apertura del coperchio per le batterie che vi ripeto sono incluse non sono ricaricabili l'unico difetto ma questo può essere un difetto e un pregio infatti grazie a questo meccanismo le batterie durano parecchio e in ogni caso con questo nuovo sistema tu riesci facilmente ad aprire il coperchio per andare a mettere o le tue batterie ricaricabili o altre batterie grazie al tracciamento delle mani sono un optional non necessario per l'utilizzo effettivo del dispositivo a livello ingegneristico che cosa hanno fatto? hanno continuato a mantenere il jack per le cuffie per avere una latenza zero con l'audio ma puoi utilizzare tranquillamente il bluetooth delle cuffie hanno mantenuto la porta laterale di Type-C che ti permette di non solo ricaricare il dispositivo ma anche di trasferire i dati direttamente al tuo computer infatti lui non è solo stand alone dove tu esegui videogiochi ma puoi collegarlo al PC e fare il cosiddetto PC VR ovvero sfrutti l'hardware del tuo computer lato grafico mentre per quanto riguarda la realtà virtuale utilizzi direttamente il MetaQuest che interagisce con il tuo PC un altro aspetto a cui bisognerebbe dedicare un altro video a sé per tutte le altre novità abbiamo qui sotto uno slider che ci permette di regolare le lenti da una distanza di 58 fino a 70 mantengono sempre degli ottimi speaker lateralmente quindi non necessariamente devi utilizzare le cuffie sono posizionati tali da essere molto vicino alle vostre orecchie infatti capita molto spesso che io non utilizzo le cuffie comunque quelli attorno a me non sono infastiditi dal suono perché è mirato direttamente alle orecchie e ho notato hanno anche migliorato il microfono se siete persone che tendenzialmente fate gameplay con questo dispositivo non serve più portarsi dietro un microfono perché lui già di base ha un microfono che isola i rumori esterni ed è piacevole altra chicca che pochi sanno vabbè oltre a regolare il volume classico abbiamo anche i connettori per un'ulteriore ricarica vendono un accessorio a parte dove tu prendi il tuo VR e lo ricarichi magneticamente questo aiuta tantissimo a evitare quel attacca e stacca della porta di tipo C in pochi lo sanno in pochi lo comprano con l'accessorio ma effettivamente può risultare utile soprattutto a chi utilizza in maniera costante questo dispositivo così come quella base vi permette di integrare le batterie cosiddette ricaricabili la vera novità di questo dispositivo sono le lenti le lenti sono state totalmente riviste vengono chiamate Pancake perché effettivamente rispetto la serie precedente ha una visione che ti permette di avere l'immagine decisamente molto meno distorta e anche con un FOV leggermente più ampio rispetto a MetaQuest 2 una volta che indossate MetaQuest 3 secondo me difficilmente tornate indietro infatti queste nuove lenti sono riuscite a risolvere tutti quei problemi di distorsione che finora abbiamo avuto nei visori le telecamere che ci permettono di visionare a colori sono posizionate nella parte alta tutte le altre sono più per il tracking al centro invece abbiamo il sensore di prossimità cosa serve il sensore di prossimità? ogni volta che noi indossiamo il visore vogliamo creare un'area di sicurezza perché vogliamo evitare di sbattere contro il muro o cadere in un burrone ecco con il sensore di prossimità in automatico riesce a riconoscere anche i mobili e volendo li riesce a integrare anche all'interno dei giochi per esempio quando avvierete per la prima volta questo VR noterete subito che dopo la scansione attraverso questo sensore addirittura riconosce i mobili e quando si avvierà la situazione in cui arriverà la navicella i vari detriti del muro rotto andranno a rimbalzare sul mobile e non passeranno attraverso i mobili insomma si integrerà totalmente con l'ambientazione aumentando di parecchio il realismo tornando sempre al discorso confronto con Meta Quest 2 le lenti hanno anche avuto un miglioramento passando da 90 Hz a 120 Hz e hanno aumentato il numero di pixel leggo da 1832 x 1920 pixel che avevamo su Meta Quest 2 siamo passati a 2064 x 2208 pixel su Meta Quest 3 quindi percepiamo ovviamente una risoluzione superiore soprattutto nell'ambito videoludico parlando di processore abbiamo sempre uno Snapdragon XR2 di prima generazione in Meta Quest 2 di seconda generazione su Meta Quest 3 e anche qui c'è solamente un'indicazione che dice è migliore del 30% io vi posso dire che effettivamente si nota questo miglioramento soprattutto all'avvio e allo spegnimento del dispositivo meno tempo di attesa anche nel caricamento nelle varie applicazioni soprattutto nella fase di installazione che in Meta Quest 2 è decisamente più lenta infatti se tu provi Meta Quest 3 e poi torni in Meta Quest 2 c'è un bel trauma per chi si intende di telefoni non è come passare dall'S23 Ultra di Samsung all'S24 Ultra dove i cambiamenti sono esigui qui c'è un bel cambiamento insomma passare da Meta Quest 2 a Meta Quest 3 ha decisamente senso e hanno aumentato anche la RAM da 6 GB di RAM a 8 GB di RAM in Meta Quest 3 che sicuramente può essere utile soprattutto nell'ambito videoludico va bene abbiamo visto un confronto abbiamo visto le specifiche ma poi verrà che io ancora non ho capito che cavolo serve cerco di riassumertelo in due grandi categorie che poi suddivideremo ulteriormente abbiamo la categoria intrattenimento la categoria lavoro vi anticipo già che secondo me la categoria lavoro è molto molto sottovalutata questo dispositivo per me è già pronto per il lavoro infatti qui su Poderac vi ho già fatto dei tutorial per esempio come sfruttare questo dispositivo per avere degli schermi virtuali come poterlo utilizzare anche nelle riunioni solo che secondo me ancora le aziende non hanno conosciuto questa tecnologia non conoscendola perché se ne parla poco tendono a non utilizzarli torniamo però alla categoria principale quella dell'intrattenimento che possiamo dividere in intrattenimento multimediale e intrattenimento videoludico direi di partire proprio da quest'ultimo perché è quello che ha reso famoso questo tipo di dispositivi e soprattutto è quello che è stato anche rivoluzionato con Meta Quest 3 infatti grazie alla realtà mista dove possiamo interagire con la realtà integrando il mondo virtuale si riescono a fare delle cose che si si potevano fare anche con Meta Quest 2 ma essendo un bianco e nero non tonto o preciso soprattutto perché non è che vada chissà che l'end tracking nel Meta Quest 2 nel Meta Quest 3 funziona benissimo e molte applicazioni molti giochi sono davvero rivoluzionari per quanto riguarda il pass through per esempio ho davvero apprezzato tantissimo tutti quei giochi di ping pong di biliardo dove tu hai la possibilità di inserire un campo di biliardo direttamente in casa utilizzando il tuo ambiente domestico e invitando altre persone provenienti da tutto il mondo loro non è che vedono casa tua loro vedono semplicemente il tavolo da gioco e sincronizzato in modo tale da sembrare come se loro fossero in casa tua ho fatto semplicemente degli esempi biliardo addirittura puoi diventare un portiere puoi utilizzare per giocare a golf c'è addirittura un gioco che si chiama Aspire dove tu prima mappi tutta la tua casa e all'interno della tua casa paunano dei nemici dove devi effettivamente fare delle battaglie direttamente in casa tua ed è qualcosa di sorprendente che finché non provi non puoi capire i giochi all'inizio erano pochi ma già a distanza di 4 mesi ne sono usciti parecchi e anzi vi consiglio di andare a vedere magari i miei TikTok dove spesso ho giocato alcuni di questi giochi l'altra categoria è quello dei film intrattenimento in generale multimediale abbiamo la possibilità di utilizzare YouTube Disney Plus tutte quelle applicazioni attraverso il browser ma anche attraverso applicazioni dedicate che puoi gestire direttamente anche con le tue mani senza l'ausilio appunto dei controller io infatti sono molto utilizzatore di questo dispositivo proprio in questa categoria sì mi piace giocare però quando si tratta di giocare preferisco giocare al PC se proprio gioco in PC VR mentre per quanto riguarda l'utilizzo di questo dispositivo la mia preferenza in assoluto riguarda proprio l'intrattenimento multimediale vi faccio un esempio molto tranquillo io spesso vado sulla cyclette per allenarmi non ho più la necessità di mettere il telefono o di guardare la tv essendo che ho la realtà mista io attivo uno schermo pari a 100 pollici quello che voglio come se fossi al cinema e io mentre utilizzo la cyclette ho la possibilità di guardare direttamente il mio film e nello stesso tempo riesco a vedere che cosa mi succede attorno in meta quest 2 che mi capitava magari il cane si avvicinava e c'era il rischio che con la cyclette lo colpivo mentre essendo adesso con la realtà mista quindi vedo quello che mi succede attorno non succede più questo pericolo se per esempio mio fratello se ne va di casa e ho le cuffie me ne accorgo perché lo vedo che se ne va di casa lo saluto mentre con meta quest 2 questo non lo potevo fare mi dovevano toccare per dirmi ehi guarda che ne so dobbiamo uscire dobbiamo portare il cane fuori insomma questo pass through questa realtà mista ha davvero rivoluzionato il mio modo di utilizzare questo dispositivo anche l'ausilio ad esempio degli schermi per esempio vi ho fatto vedere questo dispositivo riusciamo a creare degli schermi virtuali noi ci compriamo un monitor o proprio volendo possiamo anche evitare l'acquisto e attraverso meta quest 3 ci possiamo costruire dei monitor non da 24 anche da 100 pollici ciascuno per la nostra produttività per non parlare della latenza che è diventata praticamente assente anche in modalità wireless parlando di monitor vi ho anticipato quello che effettivamente poi riguarda l'aspetto lavorativo con questo tipo di dispositivo per esempio io ho preso un mini pc di quelli economici ho poi collegato il meta quest 3 e ho avuto la possibilità di lavorare su ben 3 monitor inesistenti capite che grazie a questo tipo di dispositivo mi risparmia l'acquisto dei monitor e ho la possibilità di lavorare in maniera tranquilla anche in situazioni dove magari lo spazio per 3 monitor non ce l'hai al di là di questo che ovviamente può essere articolato in tantissime modalità riguarda anche la possibilità di fare le riunioni lavorative non sai quante volte magari mi è capitato di andare ad alcuni eventi dove effettivamente un dispositivo del genere avrebbe anzi forse migliorato l'evento con interazioni particolari senza la necessità di muovere e fare inquinare le persone ad andare in quei determinati eventi lui a livello aziendale può essere utilizzato per le riunioni perché tu puoi entrare in un ambiente virtuale addirittura c'è la possibilità di scrivere su una lavagna che tutti i colleghi vedono tu vedi i tuoi colleghi interagire con te addirittura con dei tablet che rimangono sincronizzati puoi anche utilizzare software tipo Word PowerPoint per mostrare presentazioni ecco questo aspetto devo dire è rimasto molto simile a MetaQuest 2 l'unico miglioramento che hanno fatto su MetaQuest 3 per l'aspetto lavorativo è il fatto che hai la possibilità attraverso i pass-through di vedere la tastiera mentre sei in questo ambiente virtuale per il resto è rimasto molto simile e anzi forse proprio l'aspetto che è più critico da parte di Meta che effettivamente questa categoria che è quella secondo me che effettivamente può rivoluzionare il mondo tende a non spingerla troppo proprio lei con le sue applicazioni infatti secondo me Meta dovrebbe spingere tanto l'uso di questi strumenti di queste applicazioni ottimizzando con nuove funzioni per permettere proprio alle aziende di sfruttare un dispositivo di poco meno di 600 euro per fare tutto quanto sempre parlando di aspetti lavorativi vi faccio capire anche come sta rivoluzionando questa realtà mista ovvero la possibilità di utilizzare il mondo virtuale nella realtà reale c'è un'applicazione per esempio caddy gratuita che ti permette addirittura di prendere un modello cad di scomporlo e di vederlo concretamente in scala 1 a 1 direttamente nella tua abitazione e addirittura di invitare eventuali colleghi per analizzare insieme questo tipo di file 3D e addirittura puoi fare a livello sempre 3D degli appunti per cercare di migliorare quel pezzo di evidenziare le criticità altre aziende stanno già sviluppando delle applicazioni che sono tuttora disponibili per andare a insegnare che ne so a infermieri come effettuare i prelievi mostrando un modello 3D probabilmente con i futuri aggiornamenti avremo che ne so la possibilità di inquadrare gli alimenti e attraverso l'intelligenza artificiale chissà magari vedremo un ricettario che ci spiega effettivamente come cucinare questo è un futuro che può sembrare lontano ma non lo è affatto e anzi questo tipo di dispositivo probabilmente tra un anno potrà essere completamente rivoluzionato a livello di aggiornamenti software torniamo al passato immaginatevi era covid dove tutti eravamo a casa molte persone hanno comprato un pc semplicemente per fare call ma vi immaginate l'esperienza di vivere in una classe virtuale con Meta Quest 3 costa tranquillamente quanto un mini pc anzi forse meno e hai la possibilità di interagire con l'insegnante su una lavagna hai la possibilità di vedere i documenti insomma sarebbe stato secondo me all'epoca uno strumento vincente che a me tuttora ancora non è secondo me molto utilizzato per questo scopo però aperta parentesi sull'ambito scolastico mi è parso di vedere su Amazon la possibilità di acquistarlo per esempio con il bonus se voi siete degli insegnanti e avete questo bonus che dovrebbe essere ancora in corso avete la possibilità di acquistare Meta Quest se non sapete come spenderli questi soldi investiteli in questo dispositivo perché effettivamente potrebbe esservi utile a livello didattico pass-through come ti sei trovato allora per quanto riguarda l'argomento pass-through anche qui ci vorrebbe un video dedicato quando tu utilizzi il visore le telecamere a livello di risoluzione hai una percezione ve lo dico chiaramente di guardare il mondo a 480p ok quindi si vedi bene ma comunque vedi un pochino sgranato non puoi utilizzare per esempio uno smartphone però attenzione si possono trasmettere alcune applicazioni direttamente su Meta Quest per esempio Whatsapp c'è l'applicazione direttamente nel Meta Quest non hai la necessità di utilizzare il telefono sì ho visto che dicono basta che abbassi la luminosità ma parliamoci chiaro è molto scomodo non lo puoi fare ancora non abbiamo questo tipo di interazione che però devo dire su Meta Quest si sta sempre di più sviluppando non tanto mostrando la possibilità di utilizzare il tuo smartphone ma tutte quelle applicazioni che utilizzi sullo smartphone di vederle direttamente sotto forma di finestra all'interno del visore paradossalmente a differenza di Apple Vision Pro in Apple Vision Pro da quanto ho capito dalle recensioni tu vedi bene ma le registrazioni video vengono male qui il contrario tu vedi a 400p ma quando fai la registrazione video con le telecamere la percezione della qualità è più alta infatti mi capita spesso di registrare dei video magari nel video registrato con il visore il telefono si vede bene però io quando utilizzavo il visore non riuscivo a vedere bene il testo del telefono in ogni caso è una qualità accettabile tant'è che molte versioni hanno dimostrato come anche giocando si riesce a vedere cosa ti succede attorno certo non è come guardare con gli occhi dal vivo ma comunque secondo me è accettabile soprattutto per il costo di 500€ a differenza dei 3000€ di Apple Vision tornando sempre al discorso Apple Vision Pro devo dire anzi grazie a Apple per averlo lanciato un dispositivo del genere perché ha permesso di avere una pubblicità in diretta gratuita a questi visori che finora sono semplicemente stati scambiati per delle console tu Poderac concretamente lo stai utilizzando in questi 4 mesi oppure è già diventato un fermacarte allora ti posso dire che bisogna stare attenti quando si acquista un dispositivo del genere perché spesso si fa molto affidamento alla propria scimmietta che ti dice no no lo devi acquistare lo devi acquistare poi lo acquisti lo utilizzi l'utilizzi un'applicazione e poi siccome non sei molto preso non ti informi tanto sulle potenzialità e magari lo fai effettivamente diventare un fermacarte ma se effettivamente lo studi capisci effettivamente come funziona e tutte le sue potenzialità non lo è affatto io ad esempio lo utilizzo moltissimo per i contenuti multimediali prime video io non lo guardo mai 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 né sul pc né sul tablet né sul smartphone direttamente solo esclusivamente su meta quest quando mi alleno 4-5 volte alla settimana tra prime video oppure la voglia di vedere direttamente dal letto un video su youtube hai la possibilità di avere un effetto cinema tant'è che io penso che questo tipo di dispositivi se effettivamente dovessero prendere piedi non penso in pole vision perché costa 3500 euro già questo si abbassa molto di prezzo molto più accessibile potrebbero da qui a distanza di anni rendere obsolete le televisioni e i cinema perché effettivamente hai la possibilità di vedere questi contenuti in maniera molto reale direttamente sul tuo visore un po' come le radio no? per dire le radio non è che sono scomparse completamente ce le abbiamo ancora nelle auto però in casa difficilmente più le radio perché ormai ci sono le televisioni sarà che forse questi dispositivi riusciranno addirittura a rendere obsolete le televisioni quindi non più necessarie anche per l'arredamento non comprare più una televisione perché dici quelle poche volte che la vedo utilizzo il dispositivo VR che può essere MetaQuest o qualsiasi altro penso tanto per la vecchia scuola ma più per noi millennials che ormai la televisione quasi non la guardiamo più siamo più abituati a contenuti multimediali online e forse effettivamente in futuro utilizzeremo questi dispositivi invece di acquistarci una televisione magari da 2000 euro 100 pollici quando mi posso acquistare un visore da 500 euro per fare tutto questo in comodità e direi di parlare a questo punto di batteria e infine di prezzi a livello di batteria abbiamo un'autonomia di circa due ore se utilizziamo semplicemente il dispositivo a livello multimediale ma due ore abbastanza tirate mentre se iniziamo a giocare a giochi pesanti in stand alone ci avviciniamo a un'ora un'ora e mezza per quanto riguarda questo tipo di problema tra virgolette Apple che cosa ha fatto ha adottato la batteria portatile non c'è una batteria integrata in Apple perché loro dicono se magari tutti acquisti il visore la batteria a distanza di due tre anni magari non sarà lo stesso modo di come l'hai acquistata e la possibilità di cambiarla però secondo me è comunque un aspetto scomodo avere sempre una batteria portatile perché magari sei interessato solo a un utilizzo temporaneo di qualche minuto e vuoi essere abbastanza libero cosa che effettivamente apprezzo di MetaQuest 3 ma Poderac invece per l'aspetto batteria effettivamente tra tre anni chi mi dice che dura ancora un'ora e mezza due ore non è un problema secondo me perché ormai se proprio dovesse succedere a parte che tra tre anni chissà se hai ancora il MetaQuest 3 magari è uscito il 4 o il 5 ma se proprio rimani sul MetaQuest 3 ci sono queste batterie che si comportano allo stesso modo di Apple Vision dove tu anche se magari la batteria non regge più hai comunque questo tipo di batteria distraibile che tra l'altro a differenza di Apple Vision se si scarica tu devi togliere la batteria spegnere il visore togliere la batteria qui addirittura questo qui della Zyber ha una parte che è fissa di batteria ma c'è anche una batteria estraibile tu mentre stai utilizzando il dispositivo puoi andare a cambiare questa batteria e continuare a utilizzare senza interrompere l'uso del visore quindi non penso sia un problema all'aspetto batteria questi cosi davvero costano pochissimo trovate anche di questo la recensione e non è un problema abbiamo due versioni 128 giga e 512 giga devo dire che rispetto a Meta Quest 2 i prezzi sono aumentati ma è anche vero che la tecnologia è nettamente migliorata partiamo da 549 per la versione 128 512 giga 699 sono soldi importanti ma attenzione c'è una strategia che ha adottato Meta che ti permette di averlo gratis io adesso ti dico che cosa intendo prima vorrei però cercare di aiutare a capire ma mi conviene la 128 o la 512 giga io ti consiglio la 512 giga perché perché ho notato soprattutto con la nuova tecnologia Pass Through e con la qualità dei giochi che è migliorata i giochi che escono adesso pesano davvero tanto non giochi mai a 10 giochi contemporaneamente in una settimana tendenzialmente se ti appassioni di un gioco giochi quel gioco per sempre e le altre non le consideri quindi potresti tranquillamente fare carica scarica carica scarica sempre tornando al discorso ad esempio iphone 14 o iphone 15 dove effettivamente cambiamenti sono pochi o s23 ultra di samsung s24 ultra lì cambiamenti sono minimi qui a livello hardware a livello software parliamo quasi di un altro dispositivo invece del discorso poder che in che senso posso avere Metaquest gratis Meta ha adottato una strategia marketing molto particolare non so se effettivamente sta funzionando ma sicuramente va a beneficio dei consumatori soprattutto quelli super mega furbi perché attraverso il programma di affiliazione tu hai la possibilità di guadagnare ogni volta che un tuo amico acquista un Metaquest infatti è assurdo acquistare un Metaquest e non utilizzare un codice amico ogni volta che acquistate un Metaquest ricevete un codice che potete un link che potete condividere a un vostro amico entrambi ottenete un bonus di 30 euro se effettivamente poi quel visore viene acquistato basta semplicemente accettare l'invito poi lo puoi acquistare da dove vuoi una volta che l'utente si collegherà per la prima volta avrà capito Meta che effettivamente l'ha acquistato e quindi darà il bonus ad entrambi 30 euro alla volta cosa significa? che in realtà bastano 20 amici e in teoria tu hai acquistato Metaquest gratuitamente attenzione non sono soldi reali o meglio si sono soldi che però puoi utilizzare semplicemente nell'app store di Meta ma i giochi le app comunque le devi comprare e sono soldi che assolutamente fanno comodo per avere un'esperienza unica quando utilizzate questo visore e non solo ottenete i bonus quando condividete il link amico ma addirittura quando condividete le applicazioni per esempio avete acquistato un gioco se voi date il codice il link al vostro amico l'amico lo pagherà con un 20% di sconto un 25% di sconto e in più tu otterrai mi sembra 5 euro per ogni gioco che viene attivato quindi guadagna sia il tuo amico sia tu che hai condiviso il codice e tutte queste cose sono cose che ti permettono effettivamente di fare passaparola del dispositivo e addirittura nel migliore dei casi addirittura non pagarlo perché tra dare un codice di là e un codice di qua hai praticamente avuto il dispositivo gratuitamente è molto difficile se lo fai effettivamente con i tuoi amici perché parlo di furbiz perché molto spesso ci sono i gruppi facebook ci sono le pagine tipo reddit dove ci sono il link amico dove tu basta che cerchi referral nome applicazione e lo trovi facilmente su google quindi hai sempre la possibilità di ottenere il tuo sconto del 25-10% e anche tu hai la possibilità di dare un link della tua applicazione per ottenere quel bonus man mano che ci stiamo allontanando dalla data di lancio diventa sempre più difficile perché effettivamente più persone hanno il meta quest già stanno già acquistando le applicazioni però è comunque uno strumento che secondo me può aiutare parecchio se volete io vi lascio il link qui per acquistare meta quest così avete la possibilità anche voi di ottenere un bonus iniziale uno sconto di 30 euro però purtroppo sembrerebbe essere l'unica strategia marketing che sta adottando infatti se notate se ne parla veramente poco di questo dispositivo che ha grandi potenzialità di prezzo di apple che addirittura non è neanche arrivato in italia ma comunque se ne parla meta invece utilizza questa strategia ovvero quella del passaparola che però non sempre può risultare efficiente se volete dateci assolutamente un'occhiata andate a sperimentare questi dispositivi perché effettivamente hanno un grosso potenziale in tutti gli aspetti se siete interessati io vi lascio il link qui sotto in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao